Ecco, buongiorno, sono Flavio Crespi, responsabile dell'area Milano Provincia Ores di Banco BPM, oggi per una cosa un po' particolare. Oggi incontriamo tre ragazze che hanno partecipato alla trasmissione Reazione Catena, TI1, trasmissione seguita, e sono tre ragazze che hanno vinto per 15 puntate, oltretutto vincendo anche una bella somma, ma soprattutto hanno dimostrato delle buone capacità, simpatia e freschezza. Ai loro visi si vede questo, si legge questo. Allora, avendo scoperto che queste tre ragazze sono del territorio, perché sono di San Vettorelona di Coraviago, proprio per certificare che Banco BPM, nonostante oggi sia una banca grande, è comunque vicina, rimane vicina al territorio, abbiamo pensato così di dare a loro, riconoscere al loro piccolo premio, per certificare così una vicinanza a quelle che possono essere considerate oggi delle eccellenze del territorio. Per cui da Dividea oggi le incontriamo con un piccolo premio e anche per augurare a loro un bocca al lupo per il loro futuro.